Per siccome è un poster e c'è questo palazzo dietro, non so se hai visto il palazzo dove c'è la festa? Sì, a volte. E sicuramente graficamente c'è uno spazio anche per una questione di riconoscibilità di non arrodontinarsi troppo da te fisicamente dal soggetto per cui fare comunque una cosa che non... massimo un boost ma secondo me funziona meglio se viene tipo testa e spalle. Però non può essere tipo il sorriso bella pesta, deve essere una cosa molto... Sornione. E' bravo, so gridere negli occhi però non aprire troppo. Avere l'emozione della festa dentro, tipo minchia che festa no ma... Ragazzi è una festa tipo... Mi fa paura. Lui c'è il solito. Lui c'è il solito. Grazie a tutti